bella a tutti, bella a tutti ragazzi sono io shogami 01 in questo nuovissimo video di pokemon ggc online qui spacchetto delle pacchette di uno di destini incrociati, uno di turbo blitz, turbo crash e vapore accesi insieme a destini incrociati se si calcolate, non si può aiutare il tuo cotone, legame mentale con la nana cazzo, cincino e mincino pa, carta, mega tarea s che fortuna, che fortuna, ho la tocca a turbo blitz, oh mio dio che culo veramente che fortuna ma tu sempre una ne trovi cartapente e questa fa schifo ma rocchio merda turbo crash che fa schifo è l'ultima vapore accesi si infatti ma vedi che certa gente ci ha trovato turbo rara e' sempre una ma ho la trovi turbo greninio aspettate prendo il telefono che portato ti immagini trovi turbo greninio eh si e' ciao allora aspetta facciamolo con cosa posso prendere ta 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 vabbè bai ha dato la tua metà e' sempre no vabbè dico lei che termina qui vi faccio vedere una cosa cosa ho trovato cosa ho vinto fatto le sfide ho vinto così magari moto le carte perché non scrive ora devi scrivere che è idea eccolo qua e poi mi hanno scambiato livello di vertical e visco io voglia il turbo vantaggio il mio vabbè il video termina qui alla prossima ciao ciao ragazzi